È un servizio definito essenziale dal Comune di Napoli, quello degli operatori sociosanitari che offrono assistenza domiciliare agli anziani e alle persone con disabilità. Non si sono mai fermati neanche durante il lockdown dello scorso anno, ma ora rischiano di restare a casa, come spiega Paola Esposito, operatrice e rappresentante della CGL presente questa mattina in piazza. Non ci siamo mai fermati neanche durante il primo lockdown. Adesso che è finita la gara di appalto e ne deve subentrare un'altra, noi dal giorno 12 siamo tutti licenziati, perché non c'è stato ancora l'affidamento ad altre cooperative che dovranno subentrare. Per cui, mentre durante la pandemia eravamo essenziali e il servizio non andava sospeso, adesso il servizio può essere sospeso, perché noi dal 12 non sappiamo con quale cooperativa andiamo e se dobbiamo continuare il nostro servizio, che è veramente essenziale perché noi assistiamo a domicilio anziani non autosufficienti e disabili di tutte e dieci municipalità del Comune di Napoli. Il sindaco di Napoli De Magistris, impegnato questa mattina al Consiglio Comunale, incontrerà i rappresentanti sindacali nella giornata di domani per chiarire la situazione. E che prendano carico che questo è un lavoro dato ai disabili, agli allettati ed è un lavoro che non si può fermare, assolutamente. E vorremmo che l'assessore in carica adesso ne prenda carico.